Si capisce, il servo prima, il padrone è un po' duro, un po' duro, ma non tanto però, eh sì un po' sì, dovrebbe essere più morbido Ah un'altra cosa, costa pochissimo, si doveva appreso, è il kick down, il switch del kick down Per scalare marcia? Sì, eh sì certo, eh adesso mi sono andato, mi ricordate da un giro che ho fatto un'altra volta Che va su quell'altra, su quella successiva No, no, c'è va, c'è va È bruciato? Sì, l'imperatore forse sarà bruciato Prima si muoveva tutta la parco Ti ho detto, vedi? Non vedo niente, ma... Prenda, sì, forse... Ma non ce la prenda, no? Ne va a prenderla E con la sinistra? Sì, 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 sì Pazzate che è il mio Mi ricordavo mica? Il mio Il mio È il mio Ma che ti vedi dalla porta che è sotto? Comunque è più maneggibile del range 보� cameras Mentre è questa mossa È il mio Mi vuole pensare in uno specchio, non ti faccio un senso? ok forse dovrebbe scalare adesso se non sta in D così, secondo premio tutto deve cambiare immediatamente dovrebbe mettere la seconda e poi sono tre cosa è? no, ho visto schifo, però non è quasi tutto si legge solo qua davanti e qua eh sì, è l'unico che è rimasto quindi velocità di codice praticamente 3.400 g è così costa in coppia piena poi rimane il bello fresco, il bello basso diciamo è giusto questo? questo è un bel minimo a regolare no? questo è quasi non è buono questo sarebbe più scegliere un capolavoro di questa macchina, un volano leggero perché non accettere, non... però se era, andavamo a fare solo con il cambio in mezzo, andavamo a fare la dici di S50, che cosa non si può fare Seguo non so